Caliente è tuo amore, caliente è tuo amore, io voglio sognare contigo mi amore Caliente è tuo amore, caliente è tuo amore, io voglio sognare Ok, siamo pronti Sbattiamo Ok Vabbè No 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 No! 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 Aspetta che mi trovo... ...che cosa... Ok, ho abbassato un po' il... Il volume del gioco, perchè sennò dopo mi senti tra la mia voce. E lo so che non è importante però... Allora, vediamo. Che possiamo fare? Bella con questa vostra moda. Eh, questa... Non venite a scattare, se... Avere. Scerma! Qua! Ciao! 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 Bella! Bella! I don't wanna die! BOOM! Come? Ho sonavaggio, non mi sono successo. Va beh. Abbassiamo un altro po' il gioco perchè non si sente niente. ok allora dopodiché potremmo andare a vedere già nello store potremmo comprare un jetpack potremmo comprare facciamo di livello 2 il coso il colt che praticamente dura di più il missile la parola e iassar vedo che si saltava comunque con la bar spazzitrice buona diamo a fare un altro perchè salti il 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 un po un po un po un po un po un po la più bella oppure questa vediamoci questo e vai si come volete voi vediamoci l'arco scegliamo l'arco ok possiamo dire ah ah eccio ah eccio facciamo un quickscope ah wow quickscope assurdo ragazzi no pisco alla cieca wow bella merda il presidente sto sto non 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 potremmo questo insieme andare da una parte più popolato dai che ce la facciamo st non 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 guarda che tragetto che stiamo facendo a allora 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 no vittorio allora potremmo comprare prima di tutto il jetpack no jetpack potremmo comprare lo shotgun che mi ispira molto puoi conquistare molti più frecce ok ok potremmo continuare prendiamo una cosa lo scelto no 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 che so che lo vuoi usare ma non è questo che deve facciamo un quickscope assurdo vediamo se ce la facciamo no no facciamo più di là se vabbè convinto shit ma la oh vabbè rinunciamoci vediamo ma che non voglio quello no no ma sono scemo allora porcavacco vabbè dopo questo inutile passato possiamo andare avanti allora e quindi potremmo uscire lancio granate plasma gun ma prendiamo perchè ok possiamo andare con questo allora dove il corpo è uguale adesso stona dove il plasma gun eccolo no 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 ma questo fa vabbè convinto ah e c'era una cosa qua che se tipo no vabbè lo facciamo proprio come bella la vostra ah 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 guardate qua che è successo a fare incavolare il sottoscritto vediamo lo shotgun ok 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 perchè non avete preso all'elezione di reg fa culo quixco 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 che bello sei il cito come si chiama il bambino eh non lo so ma chi è il padre ma chi è il padre ah 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 che pelo ah 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 corri 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 dai che ci ha fai scappato dai che ci ha fai dai che ci ha fai scherziamo no tu m'ha fatto oh ma cosa sto smirciando tutto vabbè lasciamo da parte le cose e potremmo prendere un bel missiletto oh oh who 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 no questi io non li distruggo perchè ci sono quelli incinta che hanno bisogno di rilo ma io sai cosa potrei fare? spavere lo squalo va bene per questo episodio è tutto questo è il primo episodio di questo gioco la serie finirà quando avremo sbloccato tutto quando non ci sarà più divertimento a giocare perchè come ho già detto sbloccheremo tutto vabbè io vi saluto è stato bello fare un video per voi io sono Mastback se vi piace il video lasciate un mi piace e iscrivetevi ciao a tutti